Eccellenza, oggi la memoria grata per gli arcivescovi di Milano nel giorno della festa liturgica del Cardinale Schuster. Lei ha parlato del Cardinale Martini domani dieci anni dalla morte. Ha detto una personalità autorevole, la fiducia nella parola con la P maiuscola e nella parola parlata, comunicata, la sensibilità per la contemporaneità. Sono queste le tre caratteristiche che rendono così indimenticabile il Cardinale Martini. L'autorevolezza che Cardinale Martini si è guadagnato nei lunghi anni di ministero, la pacatezza con cui ha affrontato le questioni gravi che incombevano allora su Milano e sulla società italiana, uno sguardo lungimirante che ha individuato alcune convergenze necessarie per dare futuro alla società. Ecco, mi pare che sono i tratti che lo rendono ancora oggi una presenza a cui si fa riferimento come a un'autorità. Impressiona quante iniziative, quante pubblicazioni in questi giorni ricordano il decennio della sua morte. Impressionano, incoraggiano forse a entrare un po' più in profondità nella sua figura, a considerare non solo qualche slogan che ha avuto fortuna, ma la sostanza esemplare della sua vita, la profondità meditata del suo insegnamento, la ricerca incessante di una parola necessaria per questo mondo. Un ricordo personale suo di questo arcivescovo, suo predecessore così amato? Il ricordo che mi ha accompagnato con più continuità è la sua gentilezza, la possibilità di dialogare con lui, di sentirsi ascoltati, di trovare in lui una predisposizione alla benevolenza e quindi anche nelle responsabilità che lui stesso mi ha attribuito, il sentire vicino una persona autorevole ma paziente e gentile, soprattutto come rettore del seminario, mi ha molto incoraggiato e custodisco questo ricordo come un prezioso tesoro.